Nel colorato Andirivieni della porta di Damasco e del su carabo di Gerusalemme persone diverse si incrociano ma a fatica si incontrano o si parlano. È l'immagine comune di questa terra che schiacciata da un conflitto in atto racconta storie quotidiane di rassegnazione e di diffidenza ma non sempre. A pochi metri da qui all'incrocio con la via dolorosa presso una sala dell'Ostrian Hospice stasera si sono dati appuntamento un gruppetto di arabi ed israeliani. Sono ebrei, musulmani e cristiani. L'incontro è organizzato da Interfaith Encounter Association, un'associazione che si pone l'obiettivo di promuovere la coesistenza di individui e comunità in Medio Oriente attraverso il dialogo interreligioso, un impegno concreto che non si basa sull'erudizione teologica ma sull'incontro e il vissuto di gente comune. In order to build good relations you have to make them interact to learn to interact in a good way because they are used to not interact at all and if interact to interact in a bad way. So they have to learn to interact in a good way and in order for that to happen you have to bring them together and have them have conversations and learn to understand each other and know each other in a way that is deep and is connecting and for that we saw that Interfaith Dialog conducted in an interactive way will be a very powerful tool because it encourages people to to convey themselves from a very deep place of a deep existential meaning that religion and the religious issues offer people discover many similarities between the different traditions and maybe most most important is the fact that they are able to discuss differences in a way that is not only not threatening the conversation but also helping to construct it and through that they learn to develop friendships with people that they disagree with. This is why we thought about this specific methodology and around the methodology we formed the organization. Nata nel 2001, attualmente Interfaith Encounter Association conta 8000 soci e 20 gruppi di dialogo che si riuniscono in modo continuativo dal nord della Galilea fino a Eilat. ORIGINI I came from Nazareth and Nazareth, as you know is a mixed city. We have it's Muslims and Christians mainly. So I have I had a lot of Christian friends from back from school but Jews I never had the meeting to to meet them and relate to them in a various personal level through the organization. I had this chance we develop since our work builds on trust and knowing the one each other in the personal level. E' molto più facile per me relare con queste persone e per sviluppare amministrazioni in un livello molto sincero che solo andare fuori senza avere la verità e la profondità che ora ho con amici sull'organizzazione. A volte abbiamo attività che non ho mai pensato che io avrei fatto o avuto con un personaggio giudice. In questi incontri che danno spazio al confronto, mantenendo e valorizzando la propria identità religiosa e culturale, non ci sono esperti che parlano ad un pubblico passivo, ma persone sedute in cerchio, che si rivolgono le une alle altre, che si partecipano a esperienze, pensieri, sentimenti rispetto alle loro tradizioni religiose, aprendosi in modo molto profondo. Oggi si parla di preghiera, di peccato, di perdono. A condurre l'incontro è un rino a un rabbino. E ogni volta che abbiamo un personaggio giudice, o un personaggio cristiano, o un personaggio muslimo che si presenta questo subjecto, poi si partiamo in piccoli gruppi. E generalmente studiiamo i nostri rispettivi liturgici, le texti di preghiera, e magari per 40 minuti, al fine dei nostri incontri, L'associazione organizza anche ritiri di due giorni, preziosissime occasioni di incontro e di vita comune.